Il matrimonio è la soluzione per tutti i mali in tutto il corpo, come svenire da svegli. A che ora devi essere là? Alle tre. Dai, dai, andiamo. Disturbo? Messo. Succede quando è una storia di sgoccioli? Sono belli i sogni, ma la vita non li conosci. Ma dai, ma perché fai così? Non capisco, abbiamo risolto tutto, no? Che succede? Beh, almeno lui non ha il terrore di perdere tutto ciò che ama. Tu sì, invece. Quando gira nello spazio senza fine Con gli amori appena nati Con gli amori già finiti Con la gioia e col dolore Della gente come me E' la tua vita, Sara. Guarda bene dove vai. Ed il giorno verrà Ed il giorno verrà Il giorno verrà Anca Grazie a tutti